Buonasera, Fabian Ruiz giocava praticamente alle spalle di Milik, come nasce questa idea e soprattutto come mai lui ha tenuto fuori dall'inizio Mertens in signe? Intanto perché voleva mettere una squadra fresca, allora alcuni giocatori che hanno speso molto nella partita con Liverpool li ha fatti riposare, Albriol, Mertens, Amsic, Cagliecon, voleva mettere una squadra fresca e utilizzare di più la spinta sulla destra di Onase e mettere Fabian Ruiz e Zelensky alle spalle di Milik Poi un'altra cosa se posso, per quanto riguarda la punizione, perché abbiamo visto un po' del siparietto che c'è stato con Milik e anche questo gol si può dire che è farina del suo sacco perché è stata lei a far capire che doveva battere il polacco No, perché in allenamento ci alleniamo, Milik in quella posizione lì è molto bravo, come lo è Mario Rui dall'altra parte sicuramente risulta più efficace Dries, Mertens o Insigne Questa era, diciamo, la posizione ideale per Milik Paolo Camedda, Gol Italia Mister, le chiedo quali sono i problemi che oggi ha trovato il Napoli qua a Cagliari rispetto al solito dal punto di vista del gioco non siete riusciti in attacco a essere incisivi come spesso invece siete e poi come ha visto Niccolò Barella questa sera, grazie Le difficoltà, credo che il Cagliari ha giocato in fase difensiva molto bene erano ben organizzati, a noi poco profondi nell'attacco abbiamo cercato di gestire il possesso palla ma con poca profondità nel secondo tempo le cose sono cambiate molto credo che potevamo andare in vantaggio nei primi 15 minuti e dopo la partita si è un po' trascinata con molta interruzione abbiamo fatto fatica a mettere molto ritmo nella seconda parte, però credo che alla fine di là della traversa, credo che la vittoria l'abbiamo meritata Barella ha fatto come il solito un'ottima partita un ottimo giocatore, senza dubbio Buonasera, mister Ancelotti, Enrico Gaviano, Nuova Sardegna ha concesso praticamente gli onori delle armi al Cagliari perché ha finito con quattro attaccanti evidentemente insomma la partita la voleva vincere però il Cagliari vi ha portato proprio sino alla fine intanto il Cagliari è una squadra che qui in questo stadio non l'aveva mai perso e quindi ha dimostrato sempre grande forza, grande animo, grande determinazione un'ottima organizzazione e per quello la partita è stata sicuramente veramente veramente complicata ci abbiamo creduto, ci volevamo dare un colpo diciamo a una settimana un po' travagliata e alla fine abbiamo raggiunto l'obiettivo Si chiudo ma con una curiosità più che altro ieri ha detto di voler la finale col Chelsea domani c'è il sorteggio Io non l'ho detto Le piacerebbe, diciamo per i tifosi del Napoli Piacerebbe a tutti, ho detto e credo anche al Chelsea e a Sarri in particolare Ma domani chi è che non vorrebbe dal sorteggio? Se ce n'è una No, no, dobbiamo accettare il sorteggio speriamo che il sorteggio sia un po' più benevolo rispetto al sorteggio che abbiamo avuto nel gruppo di Champions Bene, grazie Buonasera 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 Buonasera